Interessante dibattito quello tenutosi giovedì 20 luglio alla festa dell'unità in corso proprio in questi giorni a Leccio di Reggello. Si è parlato infatti di legislatura dei diritti, un tema che sta particolarmente a cuore al Partito Democratico dai provvedimenti presi per i cittadini che soffrono di disabilità alle proposte di legge relative al terzo settore e allo Ius Soli fino ad arrivare alla normativa che regola le unioni civili. Fra i relatori il deputato PD Lorenzo Beccatini e Paola Concia, assessore al turismo del Comune di Firenze. Questa è una legislatura che in mezzo anche a tanti problemi che ci sono stati si qualifica molto per alcune nuove leggi riguardanti appunto i diritti civili in settori molto diversi, però ecco complessivamente c'è un ampliamento della possibilità per i cittadini di accedere a alcune forme di tutela e un'espansione anche delle proprie possibilità di essere cittadini con dei diritti. C'è in cantiere l'Uius Soli che ora pare si rinvierà a settembre, ma anche questo è una norma importante perché consentirà a quei ragazzi che sono nati nel nostro paese, hanno frequentato la scuola di poter diventare cittadini italiani. Stasera abbiamo parlato di tutte le leggi di civiltà, le leggi sui diritti civili, le leggi dei più deboli che sono state approvate dal governo Renzi soprattutto e poi sono state attuate dal governo Gentiloni che rappresentano il simbolo qualcosa di importante ma soprattutto qualcosa di sinistra nel nostro paese. Tutte quelle leggi sono leggi che per anni abbiamo aspettato e non sono mai state approvate e il governo Renzi e i governi Gentiloni le hanno approvate e questo ci dovrebbe far pensare e riempire di orgoglio tutte le persone del PD. Stasera è di particolare importanza perché si parla del tema dei diritti, il tema dei diritti verso i più deboli, il tema dei diritti verso chi non ne ha e quindi è il tema che caratterizza un po' la sinistra. La festa si svolgerà per altri tre giorni con impegni meno severi e speriamo che veda la partecipazione non solo della gente di Leccio ma anche di tutta la popolazione vicina dato che questa è l'unica festa del PD che c'è sul territorio di Reggello.